Ragazzi avete idea di quanto vale tutto questo popò di roba? La cosa simpatica è che fino a mezz'ora fa neanch'io me ne ero mai deso conto Mezz'ora fa ho messo su Excel il valore, la stima del valore, quello qui sopra E quando ho fatto la sommatoria e ho visto il totale, mi è preso un coccolone Lo spunto mi è venuto da un video dei ragazzi di Audiocostruzioni Che si sono chiesti quanto vale effettivamente la loro collezione privata Una collezione meravigliosa e con un valore decisamente importante Però loro giustamente sono un negozio e vanno a unire passione e professione Togliendosi giustamente qualche sfizio E anch'io quei disfizi me ne sono tolti parecchi Arrivando a una cifra di ceo totale davvero importante Piccola precisazione, i prezzi che adesso vi andrò a dire uno per uno Sono diversificati perché alcune cose sono ancora in commercio E quindi vi dirò il prezzo ad oggi, nel 2023 Alcune cose sono fuori produzione come le Kef o questo Revox Tra l'altro ho preso dai ragazzi di Audiocostruzioni Di questi vi dirò il prezzo che l'ho pagato io Ovviamente prendendoli usati infatti in questo caso Ma andiamo per ordine Mi aiuto con i prezzi alla mano e con il cellulare Per darvi un secondo punto di vista ravvicinato Iniziamo da quella che è una new entry qui nello studio Ovvero lo splendido mobile della SoliSteel Enorme, solidissimo, regge senza problema il peso tutte elettroniche Con finiture legno dei ripiani e opachi i tubi che vanno a scaricare il peso per terra Con sistema di punte e sottopunte Si chiama VL4 e costa ad oggi 1262 euro Può essere tranquillamente acquistato oggi Sempre di SoliSteel sono queste vere e proprie sculture Saldate a mano che si sposano in maniera meravigliosa con l'estetica delle mie Kef Le mie Kef sono nere opache sul fronte e anche loro sono nere opachi Ma guardate il dettaglio del punto di appoggio Sono assolutamente meravigliosi Loro si chiamano SS7 e valgono 525 euro Ma i diffusori lì sopra che sono giustamente le Kef e le S50 Che ragazzi non le fanno più Vi rimando il video qui sopra a queste piccole vecchiette Adesso sono state sostituite dalla versione Meta Loro le ho comprate, usate e le ho pagate 700 euro Ma passiamo alle tante, forse anche un po' troppe, elettroniche Questo preso, vi dicevo, dai ragazzi di audio costruzione È il Revox A77 Con il Dolby E con la possibilità di riprodurre a due velocità Tra i tre quarti e sette e mezzo Lo metto in play È uno spettacolo vederlo a movimento Come anche uno spettacolo vedersi animare Quelli che sono i V-meter Lo fermiamo e lui l'ho pagato Usato 550 euro Questo è un girabobine E passiamo al giradischi Il sogno di quando ero ragazzo Il Tecnic SL12GR Con il tappetino non originale Questo l'ho fatto fare io Con una grafica di To all talk around, to young to die Dei miei amati Jet Rotal Lui è un oggetto che quando l'ho pagato Io l'ho pagato se non do male 1350 euro Ma oggi non è questo il suo ruolo di mercato In un certo senso è un investimento Perché lui ad oggi costa 1750 euro Poi per funzionare Lui ha bisogno di alcuni accessori importanti Come la mitica testina Tipo MC Dell'Audio Tecnica Che si chiama AT33EV Lei ad oggi costa 505 euro La catena d'ascolto Della parte vinile Non è completa Senza il pre-fono E qui ci danno i prodotti Che forziamo di più Perché sono quelli Made in Italy Questo è l'Audio Analog La A-fono Un oggetto meraviglioso Sia come estetica Sia proprio il fatto Di poter gestire Destinesi tipo MM Tipo MC Al filtro subsonico Insomma Completamente configurabile Lui costa 1950 euro Interrompiamo la parte analogica Ma poi ci torniamo In realtà Per passare finalmente A uno dei pezzi Che ci sono Tante persone So Che mi invidiano Ovvero Il Sony CDPX5000 Pensate ragazzi Ci sono state alcune persone Che mi hanno fatto Delle offerte Anche abbastanza indecenti Per ricomprarlo Questo qui Ma io me lo voglio tenere Era il sogno Di quando ero Ragazzo E insomma ragazzi Avete visto più e più volte Sul mio canale Basta metterlo in play Per dire Wow Vado a cambiare traccia Guardate come si sposta Il CD Ad ogni Cambia traccia Oppure quello che succede Quando si apre Il Plexigas Per sostituire Il dischetto O per farlo Ovviamente Leggere Un oggetto Meraviglioso Fuori produzione Io l'ho pagato 650 euro Scendiamo ancora Ora sotto Con un altro prodottino Sempre della Sony Questo qui è un minidisc È l'MDS Trattino JE510 Cosa simpatica In realtà Io ne ho due di questi Uno l'ho comprato Ma quello che avevo comprato io Aveva dei problemi Ovvero Non riuscivo a leggere Tipo questo Di Pearl Jam I minidisc Preregistrati Funzionava soltanto Con quelli registrabili Ma il buon Davide Gatti Di Survivor Hacking Me ne ha regalato Un altro identico Di solito Non ricevo mai nulla Il regalo Quindi davvero Davide mi ha commosso Quando mi ha fatto Questo regalo Però Quello di Davide Legge Quelli Preregistrati Ma Purtroppo Non ha il telecomando E non ha l'uscita ottica Funzionante Il telecomando L'ho recuperato Dall'altro che avevo io Per l'uscita ottica Non so assolutamente Che fargli Piccolo fatto Divertente Divertente Insomma In un certo senso E triste I minidisc Se ne trovano Pochissimi funzionanti E quando sono Da riparare Si trovano Pochissime persone In grado Di ripararlo Ma persone Anche centri autorizzati Il mio solito Centro autorizzato Da cui mi servo io Ma detto Guarda Gianluca Non riusciamo A fargli nulla Per sistemarlo Perché poi Mi sono innamorato Del minidisc E ci farò Un video dedicato Perché voglio comprarmi Aqualang Degetrotal In minidisc Che si trova Ho questo sogno Questa è la custodia Della bobina Di avere Aqualang Praticamente In tutti I formati Esistenti Ce l'ho già in vinile Ce l'ho già in cd Insomma In bobina Lo voglio anche In minidisc E accanto Un altro oggetto Incredibile Ah non vi ho detto il prezzo In certo senso Vi dico quello Che ho pagato io 80 euro Torniamo Sull'analogico Per qualcosa Di fenomenale Nakamichi RX202E Una piastra Cassette Che ha una cosa Eccezionale Allora Questa è la cassetta Facciamo un po' L'auto reverse Guardate bene Si avete visto bene L'auto reverse Il cassetto Che contiene la cassetta Viene fuori Così possiamo sostituirla Ma se vogliamo girarla Comunque esce fuori Viene ruotata Rimessa dentro Quindi in realtà Non c'è una meccanica Di lettura Autore reverse La lettura Quella In un'unica direzione È il cassetto Ad attuare Il rovesciamento Della cassetta Eh ragazzi Questo assolutamente Porno ovviamente Fuori produzione Nakamichi Non esiste Esistono le ditte Che fanno Le banane Della Nakamichi Ma non è Quella Nakamichi Ultimo Meno importante È giustamente L'amplificazione Questo della Synthesis È il Roma 96 Dici plus Valvolare in classe A Da 25 watt Ma con tutto Ha quindi ingressi digitali Anche l'USB Con il DSD Il volume È motorizzato Insomma È davvero Un oggetto Meraviglioso Il prezzo di lui Lui costa 2750 euro Ragazzi Vedete il prezzo Nakamichi? Eh sì Lui l'ho pagato 500 euro Perdonatemi ragazzi Ma davvero Tantissima roba Poi tra l'altro Qui accanto C'è uno spazio vuoto Cosa ci metterò? Io pensavo Quasi un sintonizzatore C'è un Marans Quello con la sintonia Con l'oscilloscopio Che qui ce lo vedrei Benissimo Ma Dobbiamo finire Finire con una parte Che quasi Non vorrei mostrarvi Ma per essere onesto Vi mostro Ovvero Il dietro le quinte I cavi Innanzitutto Per l'alimentazione Utilizzo questa multipresa È della Dynavox Dynavox Si chiama X4100 Ha 4 prese filtrate 4 prese non filtrate Ha un interruttore generale Soprattutto Ha anche la possibilità Di rilevare Se la fase È collegata In maniera non corretta Un oggettino Semplice Basilare E che non costa Neanche troppo Costa 155 euro E di questo Ragazzi Vi lascio anche Il link In descrizione E poi ci sarebbe Il vero tasto dolente I cavi E ho fatto un unico video Sul canale In cui parlo dei cavi Un video che ha avuto Un successo enorme Ma non mi è piaciuta La discussione Che si tratta nei commenti E ho deciso Che da lì in poi Non avrei più parlato Di prove di cavi Vi dico soltanto Che qui c'è un misto fritto Per un totale Di 700 euro Di cavi Fritto visto perché In realtà I cavi audiofi In alcune situazioni Tipo con il Revox Non ci funzionano bene I connettori audiofili Sono talmente grandi Che sul Revox Non ci riescono Ad andare Quindi qui Ho utilizzato Cavi di varie tipologie Sia audiofili Sia cavi Assolutamente Normalissimi Io vi consiglio Due ditte Una è Amazon Basic L'altra La Cable Direct Vi lascio amare Di questi due Tipologie di cavi I link In descrizione E ora ragazzi Potreste dire Ok Gianluca Qual è il totale Generale Tutto questo Una cifra Che fa paura Tenetevi forte 12.077 euro Più di 12.000 euro In certo senso E il valore Di quello qua dentro In un certo senso Perché innanzitutto Se io dovessi rivendere tutto Non ci farei mai Quella cifra In realtà Non ho speso 12.000 euro Per comprare questo Alcune cose Appunto Le ho pagate di meno Alcune cose Hanno una storia Particolare Dietro Vi racconto questo La sintesis Il room 96 Di C++ Ho aiutato Luigi Lorenzon Nello sviluppo Un dettaglio proprio Ho seguito io Quando lui me l'ha fatto vedere In anteprima Hai fatto notare Guarda Luigi Non c'è un'uscita linea E lui non avendo Un'uscita cuffie Io che sono un cuffiofilo Come faccio a godermi L'ascolto in cuffia E lui giustamente Ha aggiunto Le uscite Di linea Dietro Quindi sono in parte Un po' papà Di questo qui Però in realtà Con la sintesis Ci ho collaborato Li ho aiutati Per alcuni mesi A seguire Il loro profilo Su Instagram E su Facebook E in cambio Ho chiesto Come pagamento Guarda non mi pagare Fammi portare Lui a casa Per averlo Sul mio impianto Però certo Qualcosa di spremiato Qualcosa effettivamente Sono riuscito A farmi regalare Però è un impianto Decisamente importante Un impianto Per cui sono Decisamente Un ragazzo fortunato E quindi Adesso che faccio? Beh semplici ragazzi Adesso Me lo godo E quindi Buoni ascolti A tutti voi E ci vediamo giustamente Al prossimo video Grazie